Allora, Compost Goal è un progetto che io lo considero una medicina per curare una ferita aperta nel sistema, nell'organico, che è quella della qualità delle raccolte differenziate della frizzura umida, perché in tutti questi anni è stato inseguito un dato che era quello quantitativo, quindi fare la maggiore quantità di raccolte differenziate e non si è per niente puntato sulla qualità. Che cosa significa? Significa che all'interno del rifiuto conferito non devono essere presenti frazioni estranei, cioè frazioni estranei sono tutti quei rifiuti che non sono compostabili e che quindi alla fine del processo di compostaggio ce ne ritroviamo come ancora un rifiuto che a nostra volta dobbiamo smantire. Molte volte queste purezze sono rappresentate dalle plastiche, soprattutto le plastiche dei sacchetti che vengono utilizzati come contenitore per la raccolta dei rifiuti. Nel 2008 dovrebbero essere i degradabili compostabili certificati e invece ancora registriamo un altissimo percentuale di sacchetti non conformi e per non conformi devo usare una parola forte non legale. La produzione del compost è ciò che fa diventare veramente un rifiuto, una risorsa.